Grazie Presidente, penso di rappresentare in questa dichiarazione di voto dopo aver anche dichiarato per iscritto in chat che voglio sottoscrivere e intendo sottoscrivere la mozione della consigliera Celli che ringrazio. Ripeto, credo di rappresentare la volontà anche della maggioranza, comunque la dichiarazione è fatta sicuramente a titolo personale. Ritengo che il percorso su Pharmacap sia arrivato a un punto di non sostenibilità in termini di ulteriori attese. Il 27 credo che sia molto complicato per l'azienda poter corrispondere gli stipendi ai dipendenti e questo è inaccettabile per un'Aula che più volte in questi anni, già a partire dal settembre del 2016, nella prima commissione congiunta che ho presieduto, essendo allora Presidente insieme alla Presidente Catini e della commissione congiunta bilancio politiche sociali, per stabilire quale doveva essere il percorso per garantire a Pharmacap una continuità aziendale, il fatto che dovesse continuare ad assicurare i servizi essenziali importanti che fa attraverso le 45 farmacie e i servizi che supporta per ciò che riguarda il sostegno alle categorie più fragili, soprattutto in zone particolarmente disagiate. Quindi stiamo sempre ripetendo ormai da quasi 5 anni le stesse cose. Per cui non si può ulteriormente attendere su una soluzione definitiva che porti a una soluzione per Pharmacap, per assicurare la continuità all'azienda, ai servizi e la salvaguardia dei posti di lavoro. Quindi con il voto favorevole a questa mozione è necessario che ci sia da parte dell'Aggiunto un intervento eccezionale e rapido per porre rimedio a una situazione che ormai ha quasi del drammatico e che sta per sfociare nel fallimento dell'azienda. Grazie Presidente.